Anche a Nembro ci sono stati diversi problemi e allagamenti nella mattinata del lunedì, i punti più critici quali sono stati? Per quanto riguarda il territorio di Nembro il punto più critico è stata la Valle del Carso nella zona delle scuole medie dove ci sono la via Famiglia Riccardi e la via Sottocorna. In questa zona il Carso ha esondato per il forte trasporto di detriti, di sabbia, di materiale alluvionale e di tronchi che hanno provocato degli sbarramenti e hanno poi fatto sì che l'acqua uscisse dall'alveo e allagasse una zona di via Famiglia Riccardi, una zona di via Sottocorna e anche l'area del luogo della memoria del Covid per Nembro. Altri interventi che avete dovuto fare anche a livello scolastico? Abbiamo avuto l'allagamento della sala ipogea della scuola primaria di San Nicola Viana però il problema è rientrato perché siamo già intervenuti per la pulizia e per il ripristino dell'aula. Mancano poche ore un altro temporale, altra acqua. Scusate, state lavorando per ripristinare un po' le vallette e i torrenti? In funzione proprio delle previsioni che sono avverse per quanto riguarda la giornata di giovedì ci siamo attivati attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale e la Protezione Civile, il gruppo degli Alpini e tutta una serie di cittadini volonterosi per mettere in sicurezza tutta una serie di situazioni che potrebbero causare altri danni. in particolare la pulizia delle caditoie e di tutti i reticoli idrici minori che in questo momento sono stati interessati dal trasporto di materiale alluvionale. Devono essere puliti, stiamo intervenendo sul territorio per prevedere che nella giornata di domani non ci siano ulteriori danni. Il problema più importante quindi è stato in zona Carso, avete preso una decisione anche di chiudere un ponticello aiutando comunque i residenti che già sono stati colpiti da quella alluvion? Sì, si tratta del ponte carrabile che da via Famiglia Riccardi porta a via Sottocorna abbiamo dovuto chiuderlo al traffico veicolare, si potrà passare comunque dal punto di vista pedonale e dai residenti che in questo momento non possono accedere alle loro abitazioni con le auto sono state consegnate delle tessere per poter parcheggiare i loro mezzi nel parcheggio multipiano sotto il comune. Tanti aiuti avete avuto, tanta gente che si è mossa sul territorio per cercare di risolvere il problema prima possibile. Sì, il mio ringraziamento va innanzitutto alla protezione civile, al gruppo degli Alpini e veramente tanti cittadini che si sono occupati di quello che è successo nelle vicinanze delle loro abitazioni. Un ringraziamento particolare va alla Polizia Locale e ai tecnici, agli operai dell'Ufficio Tecnico Comunale che fin da subito si sono adoperati per intervenire e risolvere la situazione. Il tutto coordinato chiaramente dall'amministrazione comunale, da me e dagli assessori che sono sempre stati presenti fin dal primo momento.